C'erano tutte le fatture dei fornitori, dove stanno? Ma non le avevi messe qua? Sì, le avevo messe là, non ci stanno, che ne so. Sì, non ci stanno più. Guarda che gambe che c'ho. Ti sembra un momento? Beh, voglio vedere te l'età mia. Allora, cerca di ricordarti, ieri hai preso delle cose e le hai messe qui. Eh, beh, non ci stanno più. Questa? Questa è una tela della banca. Ne hai fatto un altro prestito? Qui c'è scritto che dovevi presentarti la settimana scorsa. Mamma, mi sono dimenticata. È grave? Cazzo, mamma. Dammi un foglio. C'è una penna? Tieni, sta qua. Brava. Tanto domani vai in banca e io vengo con te. Ti sono cresciuti troppo i capelli, eh? Dai, per favore, adesso pensiamo a questa cosa, eh? Senti, oh, sono mica i tuoi i soldi, sono i miei, eh? So quello che faccio, sai? Sì. No, beh, cioè non è possibile che non ti fai tagliare i capelli da tua madre, scusa. Guarda che capelli che c'hai. Montano. Ok. Ok.